Benvenuti in questo nuovo video dedicato al gatto Bengala, una razza di gatto che sta diventando sempre più popolare in tutto il mondo. Il gatto Bengala è una razza relativamente nuova, creata negli anni Sessanta dall'incrocio tra un gatto domestico e un gatto leopardo asiatico. Questo incrocio ha creato un gatto con un mantello unico e un carattere particolare. Il gatto Bengala è stato riconosciuto come razza ufficiale solo negli anni Ottanta. Origini Il gatto Bengala è una razza relativamente nuova, creata negli anni Sessanta dall'incrocio tra un gatto domestico e un gatto leopardo asiatico. Questo incrocio è stato fatto per creare un gatto con un mantello unico e un carattere particolare. Il gatto Bengala è stato riconosciuto come razza ufficiale solo negli anni Ottanta. Il gatto Bengala è stato creato dall'allevatore americano Jamil, che ha incrociato un gatto domestico con un gatto leopardo asiatico. Questo incrocio ha creato un gatto con un mantello maculato o marmorizzato, simile a quello del gatto leopardo asiatico, ma con un carattere più docile e domestico. Caratteristiche Il gatto Bengala è un gatto di medie dimensioni, con un mantello maculato o marmorizzato. Il mantello può essere di diversi colori, tra cui marrone, argento e oro. Il gatto Bengala ha anche grandi occhi verdi o dorati e orecchie piccole e arrotondate. Questa razza è nota per la sua muscolatura forte e la sua agilità. Il gatto Bengala è un gatto molto attivo e giocoso. Questa razza ama giocare e interagire con i suoi proprietari. Il gatto Bengala è anche molto intelligente e può essere addestrato a fare trucchi e a camminare al guinzaglio. Tuttavia, questa razza può essere molto esigente e richiede molta attenzione. Il gatto Bengala è un gatto molto socievole e ama stare in compagnia dei suoi proprietari. Questa razza è molto affettuosa e può diventare molto legata al suo proprietario. Alimentazione Il gatto Bengala ha bisogno di una dieta equilibrata e nutriente per mantenere la sua salute e la sua energia. Si consiglia di alimentare il gatto Bengala con cibo secco di alta qualità e di evitare cibi troppo grassi o zuccherati. Inoltre, è importante fornire al gatto Bengala acqua fresca e pulita ogni giorno. È importante anche evitare di sovralimentare il gatto Bengala, poiché questa razza può diventare facilmente obesa. Salute Il gatto Bengala è generalmente una razza sana, ma come tutti i gatti, può essere soggetto a alcune malattie. Alcune delle malattie più comuni che possono colpire il gatto Bengala includono problemi dentali, malattie renali e problemi gastrointestinali. È importante portare il gatto Bengala dal veterinario regolarmente per controlli di routine e per prevenire eventuali problemi di salute. Inoltre, è importante tenere il gatto Bengala al sicuro da parassiti come pulci e zecche. Cura Il gatto Bengala richiede molta attenzione e cura per mantenere la sua salute e il suo benessere. È importante spazzolare il mantello del gatto Bengala regolarmente per rimuovere i peli morti e prevenire la formazione di grovigli. Inoltre, è importante tagliare le unghie del gatto Bengala regolarmente per evitare che diventino troppo lunghe e causino problemi di salute. È anche importante pulire le orecchie del gatto Bengala regolarmente per prevenire infezioni. Infine, è importante fornire al gatto Bengala un ambiente pulito e sicuro, con una lettiera pulita e un'area per dormire confortevole. Con la giusta cura e attenzione, il gatto Bengala può vivere una vita lunga e felice. In conclusione, il gatto Bengala è una razza di gatto unica e affascinante, con un mantello bellissimo e un carattere giocoso e attivo. Se stai pensando di adottare un gatto Bengala, ricorda che questa razza richiede molta attenzione e cura, ma in cambio ti darà tanto amore e divertimento. È importante fornire al gatto Bengala una dieta equilibrata e nutriente e portarlo dal veterinario regolarmente per controlli di routine. Grazie per la visione! Se ti è piaciuto il video ed adori i gatti ti invitiamo a scrivere un commento, a lasciare un like al video e ad iscriverti al canale attivando la campanella.